Vada su un attimo Il pezzo di merda Dov'è stretto Futto nuovo Per me non fa soffire Oh bravo Dai che sei fuori Dai Dai Vino e WIWA E WIWA Italian style Vino e WIWA Italian style Vino vmontare la base del baboya a girarti di qua ma dove siamo qua? ma dove siamo? è l'abisso vai Andrea ora qua ciao c'è anche l'audio lì ok Maurizio esce fermo lì saluta ok puoi uscire? grazie 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 firma Andrea Macconi nuove esplorazioni a Penfangorra grazie guarda qua ok grazie 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 E' un po' di messa, e mi metto da queste cose. E' un po' di***! ma dove siamo qua grande punta e continua bene 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 E' un'altra cosa che c'è, non 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 c'è. C'è, non 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 c'è. Salutà Gianluo. Sì, 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 sì! Va bene! Carvu! Saluta un momento! Ok!